Una bella iniziativa questa sera del Comune di Livarolo che anticipa il Giro d'Italia, quindi il Castello Malgrà è il coloro di rosa? Assolutamente sì, stasera 26 gennaio mancheranno 100 giorni al giro e con questa iniziativa tutte le città di tappa di arrivo e di partenza d'Italia, che faranno parte del Giro d'Italia, illumineranno un punto riconoscibile della città di rosa. Noi abbiamo scelto ovviamente il nostro Castello Malgrà che è un nostro gioiello culturale a livello di eventi e quindi speriamo che sia sempre più un punto di rilancio per la città. E se andrà a vederlo tutto insieme con una piaccolata che parte da Piazza del Cusetto. Sì, ci ritrovo qui nella Piazza del Comune. Abbiamo potuto purtroppo, per ragioni che ben sappiamo, invitare solo un delegato per l'associazione in modo da dare un peso istituzionale all'iniziativa e quindi andremo tutti quanti insieme con delle fiappole che si illumineranno ovviamente di rose ad accendere insieme il nostro Castello. Ciao! 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 Ciao!